buongiorno dato che la romagna non stanca mai siamo tornate e a sto giro ci sono anche le nostre amiche brand ci troviamo a poggio torriana dove c'è un castello molto carino che domina tutta la pianura sottostante e si vede san marino da qua ora siamo giunti a un punto panoramico del castello si parte questa è anacleto destinazione il borgo di san leo no 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 bene siamo giunte in quel di san marino per scroccare il diesel perché qua costa 1,5 sono penso mesi che nord italia non costa così poco quindi un bel pieno a san marino tanto l'abbiamo già visitata molto carina tra l'altro non 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 località premi il cuore che qualcuno vuole visitare da circa 25 anni da quando nei tre e finalmente ce l'abbiamo fatta infatti era chiusa no sono caduti solo un po di massi però ce l'abbiamo fatta lo stesso c'era anche un'amicetta nel bosco un'amica boschiva no bellissimo questo è stupenda questa è la cascata e basta le pupie cosa vuoi dichiarare alla telecamera mi stai stalkerando ti denunzio un po di gente alla festivale degli aquilocchi mamma mia la mia ferragosto no infatti peggio di ferragosto un po di gente ma vediamo chi ha vinto Siamo arrivate in quel di Comacchio Ci sono le papere vere Ci sono le brande vere Vicini e finte Sono anni, tre anni, tre anni Guarda Brenda Qua con il life of skin life of Ok C'è un po' di gente Brenda Walsh Se volete autografi Silvia ma non siamo grandi No che carini quelli No io quello voglio Non ce l'ho la municina però